salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi ci troviamo finalmente a provare il JJRC X9 PS questo primo drone ad avere un gimbal meccanico e pesare meno di 250 grammi quindi la possibilità di usare questo drone senza patentino e senza QR code perlomeno fino al primo di gennaio poi per il QR code si vedrà ma il patentino sicuramente neanche dopo quindi ha bisogno solo dell'assicurazione e si vola tranquillamente quindi la prova interessante appunto perché è il primo drone dopo il mavic mini ad avere un gimbal meccanico anche se rispetto al mavic mini come ormai tutti sapete questo drone ha un gimbal meccanico stabilizzato solo su due assi meccanicamente mentre un terzo diciamo elettronico ed è questo diciamo anche un lato magari che può preoccupare perché è vero che tanti droni come lo spark come il paro tanafi anche loro stabilizzati meccanicamente su due assi ma con un terzo asse stabilizzato tonicamente in maniera però è seria di solito questi droni low cost dal punto di vista elettronico della stabilizzazione non rendono mai anzi praticamente mai però staremo a vedere com'è questo JJRC X9 PS chi di voi ha visto l'unboxing ha già visto diciamo le caratteristiche tecniche o quelle dichiarate dalla casa per questo mini drone quindi oggi non ci resta che provare e vedere come fa queste caratteristiche e come si comporta in volo sia dal punto di vista della qualità del volo che appunto della fotocamera che diciamo una delle cose che ci interessa poi proveremo l'active track perché questo drone ha anche l'active track quello che non ha il Mavic Mini anche se ho i miei dubbi che lo faccia bene però staremo a vedere poi ha la funzione orbit quindi gira intorno ad un punto di interesse o a un soggetto cosa che ha anche il Mavic Mini ovviamente questa e l'autonomia della batteria viene dichiarata per 21 minuti quindi vediamo queste sue caratteristiche in maniera concreta e facciamo appunto questa prova per vedere come fa tutto questo allora la prima cosa da fare è andare a accendere ovviamente il controller dopodiché andiamo a collegare lo smartphone al controller quindi entreremo nelle impostazioni del wifi e andiamo a cercare la rete del controller eccola qua controller perché vi darà anche la rete del drone se il drone è acceso perché potete pirotare il drone anche solo con lo smartphone però voi dovete ovviamente se volete usare il controller dovete collegare lo smartphone alla rete del controller quindi una volta collegato non ci resta che aprire l'applicazione qua abbiamo due possibilità o aprire EnjoyFly che è l'applicazione diciamo dedicata proprio per questo drone o l'applicazione SeaFly perché comunque questa applicazione sebbene per i droni SeaFly è compatibile comunque con questo drone che praticamente è un clone anche perché per Android in teoria l'applicazione EnjoyFly non si trova a meno così ho sentito nei vari video che ho visto su internet quindi potete scegliere una di queste due se avete iOS sono disponibili entrambi se avete Android probabilmente avete solo SeaFly almeno così sembrerebbe allora andiamo a aprire EnjoyFly a questo punto non ci resta che andare accendere il drone fa la musichetta ok il drone è acceso vedete che ci chiede di fare il binde con il drone gli diciamo ok binde fatto con successo StartFly quindi si connette gli diciamo ok è tutto pronto per il volo quindi avete visto come è stato tutto semplicissimo a questo punto direi che possiamo fare la calibrazione della bussola che è qua ok facciamo girare il drone dopo di che ci dice di cambiare la posizione che non vedo niente nel display perché c'è un sole pazzesco quindi dovrebbe avere finito vediamo quindi calibrazione fatta poi possiamo fare anche la calibrazione del giroscopio però quella l'ho già fatta a casa perché va appoggiato il drone su una parte piana schiacciando pulsante flashano i led e fa la calibrazione del giroscopio però quella va fatta appoggiando il drone su una diciamo una base bella piana quindi fatelo a casa non fatelo in giro perché ovviamente una base piano in giro magari fate fatica a trovarla e a questo punto possiamo anche decollare ok abbiamo già 12 satelliti quanti adesso ne abbiamo addirittura 13 quindi possiamo decollare decollare ovviamente basta tirare gli stick verso l'esterno e il drone si arma quindi decolliamo questo jjrc x9 ps allora eccolo qua mettiamolo qua un altimo in overing allora l'overing vediamo non è un overing alla dji ovviamente abbiamo 14 satelliti quindi tanti però l'overing non è perfetto c'è anche un po di ariettina in questo momento ma non è l'aria secondo me che lo disturba quanto vabbè un po il suo overing però non è un overing fastidioso non è un overing di quelli per cui si puoi dire no che schifo però niente di che rispetto a un drone dji è che comunque con 14 satelliti potrebbe essere più fermo ecco lo vedete qua adesso così forse lo vedete meglio mi sposto qui anzi così sono quasi contro luce forse mi metto di qua ecco forse così lo vedete bene no dai non è malissimo non sta fermo immobile però non è un overing fastidioso di quelli per cui uno si deve preoccupare se lo lascia lì nel senso che non lo lascerei lì tantissimo in overing però ci sta allora proviamo a fare un piccolo volo vediamo come vola e vola bene devo dire che vola bene ragazzi se volete un drone per imparare per diciamo prendere confidenza e tutto è bello vola bene ve lo posso garantire questo garantito al cento per cento vola vola bene bello morbido risponde bene i comandi no devo dire davvero davvero tanta roba dal punto di vista del volo ritorniamo qua un attimo no davvero davvero bello da volare bello 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 allora come vi ricordo le parti che ci interessano di più ovviamente è la qualità della fotocamera quindi adesso magari faccio partire a registrare il video così da vedere anche la sua qualità video perché comunque la cosa che ci interessa di più di questo drone oltre a essere un drone che pesa meno di 250 grammi che prova vedi quelli ce ne avalangate che è l'unico oltre al mavic mini ad avere un gimbal meccanico e a essere comunque un drone economico quindi ovviamente niente di paragonabile sicuro al mavic mini ma è un drone che ci interessa appunto da quel punto di vista quindi facciamo un giro veloce con la registrazione video anzi magari saliamo anche un attimo così da vedere com'è la qualità video ovviamente non aspettate chissà che perché registra in full hd a 24 fps quindi la qualità non eccessa perché ricordatevi che il 4k è nelle foto anzi magari sospendo un attimo il video provo a scattare una foto giusto per avere l'idea di com'è la qualità fotografica in 4k perché anche quello è importante la qualità fotografica quindi facciamo una bella foto anche così ne facciamo magari una anche da questa parte ok riprendiamo a registrare il video e scendiamo un attimo e torniamo qua che magari proviamo l'active track e la funzione orbit queste due funzioni che l'active track non ha neanche il mavic mini quindi una funzione che potrebbe essere interessante anche se qua l'active track ragazzi è fatto sullo smartphone quindi lui segue lo smartphone non segue il soggetto se io dovessi prendere lo smartphone e lanciarlo lui va dietro allo smartphone come lanciare un osso o un legno a un cane quindi il cane corre dietro all'osso o al rametto che li lanciamo lui corre dietro al controller perché lui segue lo smartphone allora cosa dobbiamo fare allora per attivare la funzione active track basta selezionare schiacciando su position in alto cioè nel menu che si apre poi a tendina clicchiamo su active track a questo punto il drone si mette in posizione vedete va ad un'altezza che quando la riga bianca dovremmo avere i metri che però non abbiamo dovremmo avere i metri da scegliere di altezza qui vogliamo che lui faccia l'active track nel senso che se mettiamo cinque metri va a cinque metri se mettiamo sette metri a sette metri però vedete che c'è una barra bianca come se non avesse caricato questa cosa quindi è nell'impostazione minima che dovrebbe essere cinque metri a questo punto lui già è modalità active track quindi adesso cerco di inquadrarmi ok e vediamo se mi segue vedete che arriva perché comunque lui segue il lo smartphone quindi seguendo lo smartphone lui tiene la nostra distanza perché comunque lui segue il controllere quindi scusate se ogni tanto dico smartphone a posto di controller ma in realtà segue il controller quindi come vi dicevo prima se dovessi lanciarlo là in fondo lui corre là in fondo e anche se io sono qua non è una combinazione delle due cose nel senso che non segue sia il soggetto che il controller come fa tipo il paro tanafi il paro tanafi seleziona sia il soggetto che il controller quindi fa la combinazione delle due cose e continua a seguire per mantenere sia il soggetto che diciamo il controller qua invece lui segue solo il controller allora giriamo vediamo se vedete comunque ci segue cioè per quello non molla non molla guardate va anche l'indietro quindi devo dire che da questo punto di vista secondo me non è male vedete guardate vi vado incontro e lui va indietro quindi secondo me tanta roba da questo punto di vista non è l'attiv track dei droni top ma è comunque un attiv track che funziona abbastanza bene devo dire dai non è niente male perché ricordate che questo drone costa 170 euro nel prezzo pieno perché poi lo si può avere anche a 350 euro con i vari coupon sconto quindi secondo me active track è promosso adesso io proverai a fare la funzione orbit ecco la funzione orbit lui gira su se stesso a 360 gradi anzi adesso mi alzo un po fa una rotazione vedete a 360 gradi quindi un orbit su se stesso se noi attiviamo solo la funzione orbit che questa è una funzione se vogliamo che serve perché comunque fa diciamo una panoramica a 360 gradi stando fermo su se stesso di tutto l'ambiente però se noi andiamo indietro ecco vedete che adesso lui a questo punto segue il raggio che gli abbiamo dato quindi se gli abbiamo dato un raggio di tre metri lui a questo punto farà un raggio di tre metri ok quindi la funzione orbite viene fatta ovviamente secondo me non la sta facendo male perché secondo me è bello anche fluido guardate come la sta facendo bene ovviamente non la fa sul soggetto anche qua e quindi ricordatevi che non selezionate il soggetto come fate con aspettate che la fermo ok basta mettere su position lui si ferma poi vedete in alto quel bello overing che è stando su in alto e adesso abbiamo la bellezza di 17 satelliti guardate come sta in overing bene tanta roba è adesso tanta tanta roba proviamo la funzione orbit stando in basso così ok gira su se stesso ovviamente adesso adesso aspettiamo che gira perché non riesco a capire ok mi allontano vediamo guardate la funzione orbit a questa altezza dai devo dire che non è per niente male meglio di quello che pensavo mantiene anche la quota in maniera abbastanza buona scende un pochino forse adesso risale però tanta roba pensavo peggio dai calcio sono 160 euro di drone pensavo davvero peggio e se mi interessa il link di banggood in descrizione guardate ottimo direi ottimo andiamo ad interrompere basta cliccando sul menu a tendine in alto andiamo a cliccare su position e lui si ferma nella sua posizione di ritorno nel volo diciamo classico proviamo a fare un return to home che secondo me rimane interessante perché comunque un'altra cosa che interessa ovviamente non aspettatevi il return to home di dj ai ma quello che interessa di questi droni ovviamente è un return to home di zona nel senso che basta che arrivi nel raggio di 10 metri da dove siamo partiti cioè non mi aspetto che arrivi sul landing quindi attiviamo un return to home ok attivato cliccando il tastino qua in alto a destra e vedete che arriva già è la cosa strana che fa la prima parte venendo all'indietro e dopodiché gira su se stesso e continua a arrivare non gira subito su se stesso fa la prima parte venendo all'indietro è un po strano e allora scusate se ogni tanto sono contro sole ma non so più come mettermi perché con questo sole che è ovunque oggi c'ho questa pianta che mi fa un po di ombra ma veramente questo sole oggi non so proprio come mettermi vedete che sta arrivando e secondo me non lo sbaglia neanche di tanto il landing guardate no non lo sbaglia di tanto è no perché ti sei spostato eri giusto si è spostato a un certo punto ma era giustissimo però guardate come non lo sta sbagliando cioè nel senso lo sbaglia ma di pochissimo adesso lo fermo e che non so neanche come si faccia a interrompere il il landing allora facciamo così spostiamoci sul sul landing che lo faccio scendere lo sposto in manuale e poi lo faccio scendere ma non scende ok scendi perfetto allora ragazzi secondo me tanta roba nel senso che anche il ritorno to home incredibilmente l'avrebbe sbagliato adesso non l'ho fatto scendere perché c'era l'erba un po altina qua dopo si andava tutto a sporcare di erba se l'avessi fatto atterrare però sarebbe atterrato indicativamente qua è quello cioè è quello il landing cioè secondo me tanta roba non pensavo pensavo di che arrivasse non so a 7 8 metri di distanza mentre invece è arrivato veramente vicino al landing anzi secondo me a un certo punto quando era tipo a 5 metri era anche giusto nel senso che sarebbe atterrato sul landing o lo avrebbe sbagliato di pochi centimetri a un certo punto invece quando era lì si è spostato e poi è sceso vabbè ma tanta roba lo stesso allora secondo me ragazzi non è per niente male la qualità video ovviamente ragazzi non aspettatevi qualità video alla dj ai sia nella stabilizzazione che proprio nella qualità del video perché comunque questo drone costa meno della metà è un game stabilizzato solo su due assi il terzo elettronico ma la parte elettronica come sapete per i droni economici è una stabilizzazione praticamente inesistente quindi c'è solo un due assi e sono due assi e poi ovviamente non aspettatevi un gimbal di dj ai dal punto di vista però vedete che il suo lavoro lo fa abbastanza bene la qualità come vi ho detto prima nel 4k è solo solo nelle foto quindi lui a livello di foto 4k a livello video 1080 24 fps quindi importante che quando acquistate questo drone queste cose le sappiate non fatevi impressionare nel 4k sulla confezione perché tutti questi droni economici la maggior parte e si intende sempre solo sul lato fotografico lato video sono sempre a 1080 però 1080 andrebbe anche bene che comunque nel 1080 la qualità più che buona poi sui social è la qualità ideale perché il 4k nei social è impensabile non si utilizza neanche non ve la fa neanche caricare quindi 1080 nei social è la qualità ideale e poi anche ad uso diciamo così proprio puramente obbistico è una qualità buona ovviamente deve essere un 1080 però buono è quello che fa la differenza perché se un 1080 è scarso e poi la stabilizzazione ovviamente non è quella di dj ai però è sicuramente la miglior stabilizzazione video che abbiamo su questi droni economici non è paragonabile perché il gimbal non è paragonabile si vede comunque queste micro vibrazioni queste ondulazioni si vedono anche con un gimbal meccanico come questo ma niente rispetto a quello del farci venire il mal di mare dei droni economici comunque anche a livello di satelliti ragazzi sono parliamo di 16 satelliti prima addirittura 17 cioè i satelliti li prende bene ne prende tanti e poi oggi giornata super serena non c'è neanche una nuvola quindi a livello di satelliti oggi veramente gli viene bene probabilmente prenderli perché con questo tempo poi vedete comunque in quota che bello overing che ha guardate in quota in quota quasi l'overing migliore rispetto che se lo teniamo in basso perlomeno sta fermo non tende a scendere molto di quota mentre se stiamo bassi almeno prima con pochi satelliti tendeva un po a scendere di quota adesso guardiamolo adesso no dai non è malvagio guardate guardate mi metto anche velo giro mi metto qua così non siamo contro sole guardate no dai un hovering è più che decente devo dire è accettabilissimo per essere un drone così economico di quelli che ho provato economici e forse il migliore perché veramente tante volte di questi droni economici cose fuori di testa e dal punto di vista guardate una bella foto scattiamo una bella foto anzi facciamo una bella foto panoramica un'altra bella guardate adesso che è andato in allarme batterie perché sono arrivati al 20 per cento fare retorno to home da solo questa è un'altra cosa che è utile ed è diciamo una di quelle che servono veramente perché se non ci accorgiamo della batteria che si sta scaricando abbiamo sempre il nostro drone che fa tutto in automatico questa è un'altra di quelle cose che veramente voglio sono curioso di vedere vabbè ero vicino però calcolate questa operazione lo avrebbe fatta ovunque fosse stato quindi 20 per cento di batteria retorno to home automatico vediamo adesso il suo retorno to home dove lo sta per fare quindi praticamente un secondo retorno to home anche se quello di prima ovviamente l'ha fatto partendo da più lontano adesso ha sbagliato di un paio di metri lo fermo io in manuale anzi non lo fermo perché ok praticamente non l'ho fermato perché mentre prima con il tutto home scelto da me mi faceva correggere l'atterraggio con il retorno to home fatto per mancanza di batteria lui non fa correggere la posizione almeno a me adesso non l'ha fatta correggere però è atterrato più o meno dove era parte l'erba alto ovviamente che la l'ha pulita perché poverino è intanto verde ok solo un po sporco di verde ma niente di che allora ragazzi cosa dire questo jersey x9 ps non mi ha deluso questo è da dire allora ovviamente non è l'alternativa al maic mini nel senso che meglio questo ma vicini no meglio questo ma vicini se non si vuole spendere troppi soldi perché qua parliamo di un drone che costa meno della metà parliamo di 170 euro suo prezzo pieno che arriva a 150 con il coupon sconto poi vi lascio i link in descrizione se volete dargli un'occhiata e ha senso per chi vuole iniziare ad avere diciamo primo approccio con un drone non avendone magari mai avuti e avere un drone che ha delle caratteristiche non da drone giocattolo e ha delle caratteristiche e delle funzioni comunque importanti per un drone che non costa una cifra esagerata e poi l'atto sicuramente interessante quello video avendo comunque un gimbal meccanico e attualmente non ce n'è a parte il mavic mini con un gimbal meccanico sotto i 250 grammi e anche qua ragazzi non fai video del mavic mini sia né dal punto di vista della qualità perché qua parliamo di 1080 24 fps mentre il mavic mini arriva a 2,7k a 30 fps coppa con un 2,7k di qualità pazzesca qua è un 1080 di qualità mediocre discreta e soprattutto il gimbal non stabilizza come quello del mavic mini quindi abbiamo un gimbal che comunque ci dà delle immagini che non sono perfettamente stabili però non sono neanche inutilizzabili come quelli di tutti gli altri droni sotto i 250 grammi dove le immagini sono praticamente inutilizzabili perché sono da mal di mare cioè praticamente vomitiamo mentre li stiamo guardando perché ci viene proprio il senso di nausea nel guardarle a livello fotografico secondo me non è male le foto sono in 4k ne ho scattata qualcuna giusto per farvi darvi l'idea di come sono queste foto quindi secondo me le foto non sono male ma anche i video non è male secondo me se li utilizziamo non so sui social piuttosto che ovviamente non è per fare i video della vita nel senso che wow che video pazzesco che ho fatto che qualità video no però per diciamo essere condivisi sui vari social secondo me ci sta benissimo poi le sue funzioni avanzate cioè l'active track la funzione orbit secondo me non le ha fatte male sono strane per come vengono fatte nel senso che la funzione active track la fa seguendo il controller quindi lui non segue il soggetto segue il controller come vi ho detto durante il video se io prendo il controller e lo lancio lui corre dietro al controller ovviamente perché non gliene frega niente del soggetto infatti la telecamera non non tiene mai inquadrato il soggetto come noi posizioniamo la telecamera li rimane la telecamera e li rimane nel senso che se noi ci spostiamo ci abbassiamo meno usciamo dall'inquadratura perché lui continua però lo fa bene perché comunque mi ha seguito e soprattutto anche andandogli incontro avete visto che è andato indietro che mantenendo sempre a testa distanza l'unica cosa che non ho capito perché nella barra laterale che viene fuori quando attiviamo la tip track questa barra che ci dovrebbe dare l'altezza in cui vogliamo impostare il drone nel senso che se mettiamo 5 metri lui sta a 5 metri che l'altezza minima poi si va salendo fino non so se a 15 metri adesso non ricordo e o 10 metri no 10 metri deve essere quindi andiamo a impostare non so 10 metri lui sta sempre a 10 metri però la barra ce l'avevo bianca secondo me l'applicazione non funziona benissimo bisognerebbe provare con l'applicazione si fly che comunque è compatibile al cento per cento perché alla fine questo il suo clone deve provare un po tutti e due vedere se questa cosa questo difetto lo fa con entrambe o se l'ha fatto solo a me oggi perché tipo l'altro giorno l'avevo fuori questi numeri laterali oggi no quindi non so forse anche perché stavo registrando lo schermo del telefono non lo so però non mi ha dato questa possibilità era fisso all'altezza minima che è di 5 metri poi l'orbit quest'altra funzione che secondo me non ha fatto male l'unica cosa che è un po strana come la fa un po diciamo macchinosa nel senso che subito l'attiviamo e lui inizia a girare a 360 gradi su se stesso ed è già quella una funzione nel senso che fa questa funzione panoramica in cui ruota a 360 gradi su se stesso e crea appunto una bella visuale di tutto l'ambiente dove stiamo poi da lì andando noi indietro man mano che ci spostiamo indietro andiamo a creare un raggio ovviamente se ci spostiamo indietro di un metro lui farà un orbite con il raggio di un metro se andiamo indietro di 22 metri e via dicendo il problema che non inquadriamo il soggetto come si fa con mavic mini in cui tracciamo il soggetto lui mantiene quella distanza dal soggetto no quando noi dovremmo andare sopra supponiamo di volerlo fare che ne so sopra a questo landing dovremmo andare sopra al landing essere sopra quindi magari abbassare la telecamera per avere l'inquadratura centrale a questo punto attiviamo l'orbit e poi avendo poi avendo attivato ci allontaniamo quindi lui il punto rimane quello poi andiamo ad alzare un po la fotocamera e farà il raggio intorno a questo punto quindi è un po macchinoso però e lo fa nel senso in grado di farlo non con la semplicità di quello di ghi quindi ragazzi nel complesso direi davvero tanta roba l'unica cosa che secondo me non è realissima la batteria perché 21 minuti secondo me no non ci arrivano sono pompati un po di più di quelli che li pompa dj qua così secondo me parliamo di 15 minuti almeno mio parere poi venirebbe fare una prova proprio più precisa ma così a occhio secondo me siamo intorno ai 15 minuti return to home non mi ha deluso perché comunque anzi mi ha stupito perché nel primo turno quando sono andato adesso non mi ricordo se era forse 100 metri 200 non non so bene quanto fossi anche perché il display dello smartphone si vedeva poco per via della luce forte che c'è del sole l'ha mancato di poco di un metro circa anzi subito lo stava anche centrando poi si è spostato e sceso distante di un metro quindi tantissima roba perché comunque questi droni economici non sono per abbeccare il landing cioè se ve lo beccano è fortuna normalmente basta cioè loro l'importante che tornano comunque da dove si è partita alla fine è quello che conta poi possiamo correggere o meno poi quando ha fatto il return to home perché è andato in allarme batteria cioè con il 20 per cento di batteria lui ha attivato in automatico il return to home e questa è una funzione ragazzi anche questa molto molto utile che serve davvero tanto quindi mi ha sorpreso che l'abbia fatta bene anche questo anzi non è che mi ha sorpreso però è sempre cosa piacevole vedere che questi droni economici fanno queste cose bene quindi 20 per cento di batteria è salito di quota all'attezza impostata per il tutto home e poi è ritornato ovviamente non ha beccato il landing neanche ancora sbagliato di circa un metro metro e mezzo lunga cosa che non mentre faceva questo return to home per la batteria non mi ha fatto correggere la quota quindi mi è entrato nell'erba che abbastanza alta così se un po sporcate le elichette niente di che però per dire non ho potuto correggere lo fermarlo e poi spostarmi e farlo atterrare nel landing come ho fatto nelle turn to home attivato in maniera manuale quindi ragazzi in conclusione questo drone ve lo consiglio se volete approcciarvi al mondo dei droni non volete spendere quello che dovreste spendere per dji ve lo consiglio perché vola bene è sicuro e da volare ragazzi piacevolissimo cioè proprio nel volo bello 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 vola davvero davvero bene quindi direi che da questo punto di stanta roba avete visto anche dal punto di vista la sicurezza return to home mancanza batteria tanta roba quindi se non volete spendere i soldi di dji e volete avere un drone con una qualità video utilizzabile soprattutto sui social e delle foto secondo me più che buone ve lo straconsiglio se però avete la possibilità di spendere per i soldi che costano mavic mini ovviamente ragazzi comprate un mavic mini questo ve lo dico perché ovviamente è un altro pianeta però non è un pianeta da buttare via questo jjrc x9 ps assolutamente no mi ha stupito in quasi tutto non pensavo ovviamente partendo dal presupposto di non avere un termine di paragone come dji nel senso che è che è un'altra categoria un'altra storia e quindi ragazzi se volete un drone sotto i 250 grammi l'unica alternativa per spendere meno ragazzi è questa tutto il resto va bene dal punto di vista del volo ma non dalla qualità video niente qua perlomeno anche da quel punto di vista ci si salva un po e sia qualcosa di utilizzabile quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato sul canale questa mio test questa mia prova del jjrc x9 ps con le mie opinioni il mio parere vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al mio profilo instagram per avere subito in anteprima le cose che poi usciranno su youtube e avere tante novità che su youtube magari arrivano dopo quindi iscrivetevi anche lì iscrivetevi sul mio canale trigon offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdermi neanche un video un volo un'accensione un testo un torre una novità ciao